Ed è morto a 80 anni Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo, dal 2002 al 2018. Si è spento intorno alle 2 della notte scorsa nella clinica di Cotignola in provincia di Ravenna, dove era stato ricoverato da qualche giorno. È uno dei giorni più tristi per i tifosi del Palermo. Questa notte intorno alle 2 è morto l'imprenditore ed ex presidente Rosanero, Maurizio Zamparini, l'ex numero 1 del club di Viale del Fante, era ricoverato da poco più di un mese a Ravenna, nell'ospedale di Cotignola. Nel mese di dicembre, alla vigilia di Natale, era stato operato d'urgenza all'addome a Udine, ma le condizioni di salute erano iniziate a peggiorare dopo la tragica scomparsa del figlio Armando, avvenuta ad ottobre, mentre il ragazzo di appena 22 anni si trovava a Londra per motivi di studio. Maurizio Zamparini aveva compiuto 80 anni nello scorso mese di giugno, era stato alla guida del club Rosanero dal luglio del 2002 al primo dicembre del 2018. Sotto la sua presidenza, il Palermo ha vissuto gli anni più gloriosi dal punto di vista sportivo, a partire dalla promozione in Serie A dopo 30 anni di assenza, passando attraverso la partecipazione alle competizioni europee o ancora all'acquisto e alla valorizzazione di campioni di livello internazionale, quali di Bala, Cavani o Pastore. Dopo la notizia, i social network sono stati invasi da migliaia di messaggi da parte di dirigenti, calciatori, sportivi ed appassionati. Maurizio Zamparini ha fatto la storia a Palermo e per i palermitani non sarà semplice dimenticare le emozioni vissute all'ombra del Monte Pellegrino sotto la sua presidenza. Grazie a tutti.